Allora siamo a Casa Sanremo, fra le belle facce che incontriamo tutti i giorni, ne abbiamo incontrato una, Francesco Di Gesù, Frankie Energy, ciao Frankie, senti, un tuo commento sulla serata di ieri sera? Una serata che mi ha divertito un po' meno della serata precedente, anche perché al contrario della serata scorsa ci sono stati un paio di problemi tecnici sull'esibizione degli Alma e sull'esibizione di Max, in cui le voci non erano così perfettamente intellegibili, e poi c'è stato il gruppo vincitore delle prossime tre edizioni del Festival. Sui giovani ti sono piaciute, sei contento di chi è passato? Non so se sono contento che abbiano mandato a casa il Cile e quell'altro, i re neghiotto, però l'importante è esserci. La cosa fondamentale, mi dispiace, è che i giovani, tanto per cambiare, vengono relegati in un orario da vecchi. Saluta i nostri amici di Sanremo Caffè e ti ringraziamo. Ciao Sanremo Caffè. Ciao, grazie.